Ed intanto ieri sera in diretta su Teledeona dalla Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di Canosa di Puglia Santa Messa preseduta dal Vescovo Monsignor Luigi Manzi per festeggiare il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Vito Zinfollino Ascoltiamo insieme uno stralcio tratto dall'Omelia Se io vi domando oggi che festa è, voi mi dite giustamente è la festa di Don Vito che fa 25 anni di sacerdozio, giusto? Però Don Vito fa questa sua festa in una cornice nella quale noi ricordiamo due grandi campioni della fede Che sono San Pietro e San Paolo Noi li festeggiamo perché? Perché sono molto importanti per i primi tempi della fede Tutto si è costruito a partire da queste due colonne della Chiesa, San Pietro e San Paolo Allora la parola di Dio ci dà qualche indicazione su queste due belle figure di campioni Intanto partiamo da un fatto importante che sotto certi aspetti spiega tutto e dà ragione di tutto Avrete sicuramente notato che noi sacerdoti celebranti abbiamo l'abito rosso Perché abbiamo l'abito rosso? Perché ricordiamo che sia San Pietro e sia San Paolo sono morti martiri Cioè hanno dato la vita per Gesù In altre parole, per dirla proprio terra terra, sono stati uccisi per Gesù Hanno versato il sangue E questo ci dice che avevano coraggio Volevano veramente bene a Gesù Tanto da arrivare perfino a dare la vita per il Signore È vero, oggi viviamo tempi diversi da allora Nessuno ci tocca un capello Però la testimonianza ci viene chiesta in altre forme, in altri modi Non si tratta di dare la vita, di dare il sangue Ma si tratta di impegnarci perché la parola del Signore avanzi nel mondo Perché la salvezza di Gesù tocchi tutti, possibilmente tutti gli uomini Nessuno deve rimanere escluso dall'amore di Gesù E tutto questo costa impegno, fatica, fedeltà Qualche volta anche sofferenza, dispiaceri Grazie 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 a tutti